Continua il piano di recupero dei tributi e vasi dai cittadini da parte del Comune di Castellammare del Golfo. Anche nel 2015 è stato raggiunto l'importante obiettivo di recuperare una cifra importante, ben 262.000 euro, di cui 40.000 attraverso il recupero forzoso con riscossione Sicilia. Funziona il sistema di recupero dei tributi da parte del Comune Castellammarese, che anche per l'anno trascorso, così come fatto anche per il 2014, è riuscito a racimolare un'importante somma per ridare linfa e respiro alle proprie asfittiche casse. Una cifra rilevante che riguarda la vecchia imposta comunale sugli immobili lici, oggi rinominata con il nome di Imo. La strada comunque resta ancora lunga per l'ente municipale e per i suoi uffici. Infatti, secondo quanto accertato dall'ufficio tributi, resta ancora un residuo da recuperare per tasse su lici pregresse mai pagate che supera i 700.000 euro. Segno che esiste in Paese, così come in moltissime altre realtà della provincia trapanese e in generale della Sicilia, un'ampia sacca di evasione difficile comunque da debellare. Oltretutto il Comune sta procedendo a questa accelerazione sul fronte del recupero tributi, anche per ridurre i residui attivi, problema anche questo di molti enti locali e che è stato più volte rilevato come criticità dalla Corte dei Conti. Da considerare che questa operazione ha permesso oltretutto che non finissero in prescrizione alcune somme riguardanti questi tributi. Infatti, la maggior parte dell'evasione risale all'imposta sugli immobili del 2010. Quindi, chiudendo la partita entro il 2015, si è riusciti ad evitare la prescrizione che scatta superati 5 anni di mancata riscossione. Ad avere stanato gli evasori amorosi, al di là di ogni ragionamento, rappresenta anche un ristoro economico per i dipendenti degli uffici comunali che hanno lavorato per la riscossione. Infatti, all'incirca 26.000 euro finiranno nelle loro tasche per effetto del compenso incentivante previsto dal Comune in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale. Soldi che, come stabilito da un preciso regolamento comunale, verranno così ripartiti. Il 60% sarà da dividere in parti uguali fra tutto il personale di ruolo e non di ruolo, compresi anche i lavoratori precari, che percepiranno il premio quale integrazione alle normali ore d'ufficio, operanti nell'ufficio tributi. Il 25% andrà al funzionario responsabile del tributo e il restante 15% al responsabile del settore. Tutta manna dal cielo per un ente locale che è costretto ancora a doversi barcamenare con le difficoltà nel far quadrare i conti per una scarsa liquidità di cassa.